La Paità, la meditazione dinamica della Kemovad, segue una precisa via spirituale, è un simbolismo che accompagna il Kaui, il Kaui è il praticante di Kemovad, nella sua via spirituale, ma è anche un modo di esprimere una sorta di danza sacra, che si esprime con il Taishan, che è questo, questo è un, potremmo considerarlo un totem, il Taishan è il libro, il gran libro della natura dell'antico druidismo e in queste quattro tavolette è espressa tutta una vastissima filosofia. La prima simboleggia la rinascita, rinascita a una nuova vita spirituale, la seconda è un processo di purificazione, la terza è il risveglio e la quarta è la partecipazione. nella Paità si eseguono simbolicamente queste figure che rispecchiano appunto un preciso libro che viene interpretato con l'esperienza del Kaui. www.paità si eseguono simbolicamente queste figure che rispecchiano appunto un utilizizz layer Angela www.paità si eseguono simbolicamente queste figure che rispecchiano appunto un отв sul paolette è un problema della vita filor del Kaui. www.paità si eseguono simbolicamente queste figure che rispecchiano appunto un cliente l'antico. www.paità si eseguono simbolicamente queste figure che rispecchiano appunto un acquistare una situazione. Grazie.